ma allora ragazzi è uscita questa nuova modalità lo vogliamo provare vi prego troppo bello non doggiate non doggiate io prendo le sin non ci pensate maronne kick aspetico di nuovo maronne kick ma voglio vegar indovinate come si chiamano le mie maestrie maronne kick ma ragazzi aspeta raga però questa modalità ha delle meccaniche particolari quindi forse flash non se ma non lo so ma quante cose la mobility bisogna vedere che cazzo è questa samurai ma che garrison ma che garrison io la prendo sempre allia d'urret grant massive regeneration for 8 seconds for 8 seconds oh my god oddio dov'è revive raga io revive la spammo sempre dov'è revive no ma dov'è revive ma puoi voglio no no ignitor non va bene garrison wow garrison duro questa modalità è no raga ma poi prendiamo le icone ma pensa che quando ero bannato io facciamo quando ero bannato facciamo solo queste modalità ma che cazzo championship riven wow wow bella posso fare una domanda? quando bucchino fa per quello no no ah john frank se ti vuoi cazziatono perchè sono niente ma lo così eh guardate la faccia di sensuali no no ma mi hai visto quando è bellissimo senti da questo rumore senti da questo rumore ci sono de patatine no è un transino oh oh mio dio e tu lo senti e tu lo senti questo rumore ecco vuoi che sia sto sbattendo il pisello sul lavandino no 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 non farmi dire niente a favore se no mi ha se no mi busto alla porta col pisello tipo ahahah 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 oddio mi è caduta è caduta è caduta il trancino per terra ahahah oh mio dio nooo io me lo mangio lo stesso trancino perchè sono di napoli ahahahahah ahahah ahahah e che li hai rubato? ahahah 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 no però non è il trancino dell'amolino bianco più a menti di tutto il tempo è il trancetto le trancine contrappasso della balconi ahahah ahahah il contrabbanda dei trancini ahahah ahahah mi ricordo quelle biocine all'inizio mi stavo sul cazzo perchè le inzuppavo nel latte solo che si ammollavano troppo e alla fine facevo un blocco dentro e c'era l'inondazione sul tavolo di là ahahah lo sappiamo lo sappiamo che quando inzuppi si ammollano le cose ahahah non cazzo sono questi colori non sono abituata a sta grafica gli fps mi sono uscisi a 500 ahahah e come erano prima 2 ahahah che cazzo sono questi ma che è sto oggetto guardate gli oggetti ragazzi sono degli oggetti diversi si ma cos'è wow aggiunge io c'ho l'anello io c'ho l'anello io c'ho l'anello del minatore che cazzo è perché il minatore è ma è perché ti fai sposato il minatore ma è perché però mi mandano a minare no ti fai sposato il minatore io c'ho l'anello ah ho capito guarda sei giovanni guarda sei giovanni guarda sei giovanni voglio fare il giro di mappa con la ulti di sion oddio oddio ma sei già a livello 3 ma che cazzo è un aram wow ma non voglio ma non sto pari anni ma non voglio ma siamo chiusi dentro ma ti immagini tipo tipo di sion che corrona in tondo e vabbà ma ora che si fa che si fa adesso raga adesso ma chi cazzo è questa chi cazzo è questa chi si mette a fare la dominio ma giù mi butto mi butto mi butto oddio colpi di nexus oh 3 ore può cominciare a sta cessa ma quello che facciamo ora voglio che dove si no 4 8 perché 3 ore oddio che cazzo sossico oddio che è sta di mappa ok l'isina che fa l'onda energetica guarda qua vengo con voi dai si nuova io si pareva ma no bella ma che cazzo sono queste tecnologie ok sto bene ma che hanno il baron si minano come sono esistenti già sul livello qua wow bella la torre la torre 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 easy vai fondiamo i nostri poteri uniamo creiamo una cosa sola siiii 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 cazzo andiamo pot di nuovo yasu divertente come siamo forti insieme ragazzi vogliamo uscire qualche volta insieme a bere qualcosa io vi voglio bene ma cosa stiamo facendo non lo so giugiamoci torniamo indietro torniamo indietro no 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 qualcuno deve andare da yasu dividiamoci ragazzi oddio ragazzi vi ricordo ok dividiamoci sa tanti e cichi i veri amici restano non fatemi fare la cosa non fatemi fare la cosa non fatemi fare assolutamente a costa di ultare oddio ma con la bocca che cazzo è stai succhiando l'energia ahahah si va a vita dentro ma è una game bang prima 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 vedo l'ora di fare i maron kick ragazzi non li ho mai fatti i maron kick che è in vita mia vai andano 60 gol di minion oh mio dio ma alzar bellissima è davvero lui ma stai chiusando io l'ho vista sul ppm madonna oh mio dio mi hanno circondato madonna 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 l'ho ucciso ma fra la mano con così forte fra guarda cazzo madonna 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 sarà morta ma guardate la mappa ma che ci può impare qua davvero madonna 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 pochino uomo come si triste perchè sei così triste perchè la spada nel fetillo così bella sta modalità che cazzo dici cd. meccaniche ci abbiamo un revive un revive con il trinket però sono due cariche a partita quindi la scelta è importante non puoi fare stronzate ma ti pagano più a dire queste cose la riot mi ha pagato perchè la dominion è poco utilizzata manca di hype gliela mettiamo noi una quest stavo solo con rengare e cazix cioè voglio le quest ma no ma che gioco completo ma cosa hai danno bravo eh oddio Yasuo raga Yasuo Yasuo ragazzi Yasuo Yasuo ma non c'è un'a uo raga Yasuo uo azzito 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 mi stiamo proprio circondando ma stiamo pure vincendo oh shi si muo vengo là sopra vengo a stare shiki shiki non marire shiki nooo è molto shiki ragazzi shiki nooo non ero in vita molto presto vive nooo non ero in vita non ero in vita non ero in vita non ero in vita nooo oh di si sono le cure le cure le cure le cure che cazzo beh fai cura vai non ero in vita ti è piaciuto Ma è roba che è bella voglio questa modalità ma guardiamo a giocare la pspoglia, fa un team ranked Oddio, aia Adesso loro devo guardare Nooo, sono morto Ma perché si muore pure? Nooo, è bellissimo Io pensavo che tipo era l'allenamento Che tipo era, io pensavo che era Oddio, guarda Sion che corre Dove corre? Dove sei? Non ti vedo Fermatelo, ferma, Gianfranco Andiamo, andiamo, Fran, Fran Come cazzo fai stare fermo? Ma che cazzo cazzo sei gigante Me l'ha detto pure mamma Però no, a mio pesce Oddio Oddio Madonna geek Oh cazzo No, cazzo 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 Wow, sto Rengar è proprio forte Ma mamma, io stai sconando Questa c'è qua, Ciki, sei proprio bravo con le meccaniche, Maron Non c'ho voglia di combattere Guarda come Split Pusha Qual è il termine di quando Split Pushi nella Dominion? Codardo No No A me vuoi sapere chi piace Sicuramente è la parola che inizia per me Eh, è finito con te Mamma Guarda quanta gente tu Ah, perché c'è? Però una cosa devo dire, la musica della Dominion è bella Non ce l'ho chiamata Adesso questo è un buon goal E fa una brutta fine, eh? Sì, bello, che qua, buchiacchio Che sei così terrone, la vuoi finire? Allora, vada, c'è una brutta Dov'è Maron? Vai Rengar, teamwork Teamwork Catturiamola, amico Il Gary's l'ho fatto adesso, ma non so a che serve No Che stronzo Mi abbandona Rengar Mi abbandona Rengar Ma, oh, che teamwork Mio Dio, ragazzi Le meccaniche di gioco di questa Mond Mondimion Che Disney sì Tuo team ha caturato il drin Tuo team ha caturato il bonus Eh, sì Allora, vuoi guardare ancora un po'? Ah, ok Il rigolo è pure più veloce Killing spree Forse in questa modalità sono buone le rune tipo Tempo in vita Esperienza bonus Ma anche no Che cazzo dici? Ho capito un cazzo di questo gioco Di questo gioco voi non sapete manco il cazzo Ma poi sono tutti a D, tranne Malzor Oddio, una quest Dobbiamo difendere quella e attaccare l'altra Wow Voglio stare insieme a voi e scoprire il bello della vita Vieni, vieni Lidra, Lidra Oddio Mario, no Merondagic Merondagic Hai visto tanti fatti? E' variato, fra E' variato quando hai visto Merondagic Ah, c'è burrata Facciamo un solto di censura per Adriano stasera Infatti Papai Davide, hai visto gli oggetti? C'è Lidra per i maghi Lidra per i maghi? Eh, è bello cosa di cazzo di Odino Che cazzo è? Che cazzo di Odino? No, io davvero sto cercando il cazzo di Odino Non il cazzo, me lo pensavo davvero Poi, guarda Nella Pia è riven Guarda qua, guarda I cosi che ti spedano Ma c'erano il dici per il quale? Non lo so Conquista Tu dividi ed impera Guarda, non abbiamo se sarà mica vinto Abbiamo fatto le missioni Ci siamo divertiti Guarda Io ho fatto tutto Vabbè dai, adesso le Dominion Le faccio un giorno Mi alleno Cosa fa Vincenzo quando non fa le rank? Le Dominion Di droga Di io Di prima Da 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 Ma che falli si è divertendo mi state dicendo che dopo questa partita facciamo un altro dominion è ovvio sono troppo divertenti uno sballo io non ho ancora usato il trinket ma quanto fanno schifo non è vero, non è vero, non è vero oh ma ora vinciamo, mancano poco, andiamo a fare un'azione bella, tutti insieme vai ah, facciamo il marone kick marone kick che canone no, non è solo, ok no tieni oh, ma se si sceglie no, 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 è finita wow il marone one, oddio, oddio oh mio dio ma guarda la grafica la grafica io l'ho abbassata pure, quindi c'è esploso il nexus, si è visto il cosmo cosa è così che è successo il big bang oddio Grazie.